Si terrà giovedì l'incontro in prefettura sulla paventata apertura del bypass Boccetta a Messina. I lavori in tangenziale si sono conclusi nella giornata di ieri. Il bypass potrebbe essere fruibile sin da subito ma ovviamente dovranno essere accertate tutte le questioni tecniche e soprattutto i dettagli legate alla sicurezza in questo periodo. Il traffico, l'esodo e controesodo in vista di agosto, inevitabili effetti alla viabilità che il nuovo cambio di percorso sul viadotto ritiro provocherà saranno alla base della riunione di giovedì che vedrà impegnati i vertici della prefettura e del CAS. Da quanto trapela lo stesso consorzio vorrebbe evitare ulteriori rinvii e procedere alla demolizione dell'ultima parte di impalcato e alla contestuale apertura del nuovo bypass con la conseguente chiusura dello svincolo di giostra. Dall'altra parte la prefettura preferirebbe spostare l'apertura dopo l'estate considerando il traffico derivante dall'esodo e dal controesodo e gli eventi estivi in calendario con certo dei pinguini tattici nucleari e processione della vara su tutti. Così tutto potrebbe essere rinviato a settembre ma il CAS spera di poter fare subito per poter concentrare i lavori sull'ultima parte, la carreggiata al lato monte del viadotto ritiro. Quando sarà aperto il secondo bypass consentirà anche a chi deve uscire a Boccetta venendo da Villa Franca di non uscire più a giostra ma di imboccare il bypass Baglio potendo quindi restare in tangenziale. contemporaneamente potrà chiudere l'uscita di giostra sempre per chi viene da Villa Franca una operazione necessaria per completare i lavori sulla carreggiata al lato monte del nuovo viadotto ritiro. Quest'ultima fase dei lavori avrà una durata prevista di sei mesi. Rimane invece aperta ormai in modo definitivo l'uscita di giostra per chi proviene da Boccetta, centro e zona ionica.